Il carcere di Pescarenico, che ospita una settantina di detenuti, va avanti grazie alla buona volontà dei lavoratori, chiamati ogni giorno a fare più del dovuto. Il segretario territoriale di categoria della Cisla, Monza Brianza Lecco, Matteo Zizza, ha preso carta e penna per denunciare le carenze di organico della casa circondariale e ha scritto al provveditorato generale della Lombardia, l'organo periferico del Ministero della Giustizia. In particolare, Zizza evidenzia la mancanza di personale per quanto concerne le qualifiche di funzionario contabile e pedagogico. Oggi, scrive il sindacalista, è presente un funzionario contabile sui due previsti in pianta organica, mentre non c'è nessuno dei tre funzionari pedagogici previsti con notevoli problemi nella gestione della popolazione detenuta. Tutte le problematiche collegate ricadono sugli agenti di polizia penitenziaria, con evidenti conseguenze in termini di aggravio di lavoro e di stress lavorativo. Il segretario della FNS, Cisla, sottolinea poi il disagio di chi lavora all'interno della casa circondariale di Lecco. Gli agenti di polizia penitenziaria, prosegue, sono un manipolo di uomini e donne chiamati ad assolvere i propri doveri, ben oltre lo stretto dovuto, e ciò solo grazie al loro alto senso di responsabilità. È evidente che abbiamo superato la soglia critica del carico di lavoro quotidiano. A sostegno è intervenuta anche Rita Pavan, segretaria generale della Cisla, Monza, Brianza e Lecco. Queste figure svolgono compiti importanti e delicati, aggiunto in merito ai funzionari mancanti in pianta organica. La loro assenza o il loro forte ridimensionamento non solo finisce con il gravare ulteriormente il carico di lavoro del personale di polizia penitenziaria, ma mette a rischio lo svolgimento dell'attività nella casa circondariale con i detenuti, con le loro famiglie e con le istituzioni con le quali il carcere deve relazionarsi.